Lentini ai domiciliari per minacce aggravate e percosse vale più volte la misura infritta, 34 anni e finisce in carcere. A seguito delle reiterate violazioni, il giudice del Tribunale di Dosea ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. I carabinieri della stazione di Lentini hanno arrestato un pregiudicato di 34 anni in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa. L'uomo era agli arresti domiciliari dallo scorso marzo poiché è gravamente indizionato di maltrattamento in famiglia e minacce aggravate. Nonostante i militari impegnati quotidianamente nel controllo del territorio hanno accertato che l'uomo è evaso più volte e hanno prontamente segnalato le violazioni alla autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 34 anni è stato trasferito presso il carcere Cavadonna di Siracusa.